Sono Sebastiano Floridia, il Presidente dell'Ordine Ingegneri di Siracusa. Da 25 anni come comunità presente nella nostra provincia, siamo attivi in tutte le attività di volontariato della città. Ci saremo anche questa volta. Abbiamo messo in campo il nostro concetto capo di casa, il collega che sarà presente la domenica alla partita delle ore. Vi aspettiamo allora numerosi domenica 31 marzo alle ore 10. Grazie per la visione!